L'imponente aumento dei contagi in provincia di Teramo sta portando ad una nuova riorganizzazione dei presidi sanitari, in particolare quella del Mazzini. La pressione del Covid è aumentata anche perché ci sono persone andate in ospedale per altre patologie e trovate positivi al tampone d'ingresso, come accade sempre più spesso, visto l'aumento dei casi. Accade anche che ricoverati entrati negativi diventino positivi poi e questo ha causato negli ultimi giorni alcune chiusure temporanee di reparti per la necessità di sanificare come registrato ortopedia sia a Teramo che a Giulianova e all'ostetricia di Teramo. Nel frattempo la ASLA ha varato l'accorpamento di chirurgia e ortopedia sia ad Atrica e a Sant'Omero per recuperare infermieri e medici e aprire ulteriori dieci posti Covid a Teramo e il secondo pronto soccorso dove al suo interno è stata realizzata la cosiddetta zona grigia con cinque posti letto riservati a sospetti Covid in attesa di ricovero che vengono monitorati per evitare che diventino positivi il reparto. Bisogna tenere sotto controllo tutto ciò che accade al territorio, nel territorio oramai siamo arrivati a più di 5.000 contagi a livello provinciale, è ovvio che dobbiamo darci un'organizzazione e rivedere anche l'organizzazione interna, serve personale quindi stiamo per aprire ulteriori posti all'ospedale Covid presso l'ospis oppure per potenziare anche la zona grigia del pronto soccorso dove mettiamo in osservazione coloro che entrano in ospedale necessario infermieri e quindi abbiamo in questa fase accorpato le ortopedie e le chirurgie di Sant'Omero e di Atri, da ieri Atri all'altro giorno di Sant'Omero, quindi questo ci consente di recuperare un po' di persone infermieriche e anche di quei medici che dovranno andare a coprire i turni nei reparti Covid. Tutti dobbiamo metterci a dare il livello di attenzione, anche perché questo virus sta colpendo anche operatori sanitari, quindi la situazione diventa un po' complicata e dobbiamo usare tutte le accortezze possibili e immaginabili. Grazie. 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 Grazie.